Vedrai? Ma vuoi fare la foto da Gilmore o la Bronzini? Spettacolo! E dopo ti puoi vedere su Facebook? Lo volevi vincere te? Eh? Ci provo ma mi sa che mi viene difficile quest'anno Oh ma giri fuori la carta Jolly Eh? E ti raccolavo? Non riesco mai ti raccolavo Ahahah Non mi ti raccolavo Non mi ti raccolavo Non l'avevo detto Non mi non mi raccolavo Non mi raccolavo Non mi raccolavo Non mi raccolavo Grazie.